A Carcare anche il campanile pare un fiammifero, scusi ha un fiammifero usato, qui è la domanda rituale, vedete infatti come i carcaresi li tengono da conto e la signora Boetti ne consuma scatole per fornire al marito questa abbondanza, lui ne raschia la parte carbonizzata, spiega al figlio che di carbone ne vede abbastanza sulla teleferica dove è impiegato, ormai gli ex fiammiferi sono incollati in tavolette, i pezzi del violino dal riccio alle chiavi alla cassa con tanto di F hanno trasfuso nei poveri fulminanti le loro forme stregate, economia intima armonia dicono gli avari, il signor Boetti ne fa invece una melodia, disimpegna a casa le funzioni della radio, piano però con le melodie focose i fiammiferi potrebbero ricordare di essere stati infiammabili